San Saghi, scienziato delle scienze e tecnologie alimentari, sceglie l'Università di Teramo per sviluppare progetti di ricerca. Non poteva esserci un miglior inizio del programma di internazionalizzazione varato dall'Ateneo. Per questo ringraziamo il professor Saghi, veramente lo ringraziamo molto, perché viene qui a lavorare per sei mesi, anche duramente, e offrendoci la possibilità di ampliare le collaborazioni sulle ricerche e di offrire ai nostri studenti una docenza di livello straordinariamente elevato. Dopo aver collaborato con la Facoltà di Agraria dell'Università di Teramo dal 2011 al 2014 nell'ambito del progetto internazionale Erasmus Iseki Food 4, ha mantenuto ottimi rapporti di collaborazione che oggi hanno portato il professor Saghi a scegliere l'Università di Teramo per un periodo di più stretta interazione con la Facoltà di Bioscienze, Tecnologie, Agroalimentari e Ambientali. La ragione principale è perché conosce la professoressa Pitti e il professor Marra dell'Università di Salerno, che collaborano con lui da anni e quindi è la motivazione per stare qua, per contribuire sostanzialmente al territorio, sul territorio, soprattutto nell'ambito delle piccole e medie imprese, per poter dare l'idea della ricerca che conduce lui in particolare sull'innovazione di prodotto e di processo e per fornire quello che deve fornire in fin di conto la scienza sul territorio e sulle aziende. Il professor Saghi terrà seminari e attività didattica su argomenti relativi all'innovazione di prodotto e di processi delle tecnologie alimentari. Combinare la scienza di base, l'innovazione e i consumatori, quindi mettere insieme le necessità del mercato, la conoscenza e il territorio, tutto ovviamente nell'ottica di migliorare il prodotto e di incidere ovviamente sui consumatori.